ciao allora oggi video mangereccio perché è in collaborazione con la degustabox eccola qua che è pesantissima quindi l'appoggio per motivi perché non ce la posso fare allora degustabox è una box mensile dove ci sono dentro tanti prodotti alimentari quindi direi di dunque è ancora sigillata quindi devo proprio guardarla assieme a voi scusate ma è pesantissima allora intanto prima di tutto per il vostro primo ordine con la degustabox qui sotto nell'infobox c'è un codice per voi dove potete avere 6 euro di sconto quindi è un buono sconto non è un codice affiliato quindi io non guadagno dalle vostre acquisti quindi è solo un codice per voi e direi di iniziare a curiosare ed aprirla perché davvero è pesantissima ed è anche bella grande e non si è mai sentito parlare bene perché no proviamo a guardare scusate l'appoggio qui e iniziamo ad aprirla con le forbici e guardiamo che cosa contiene allora non vi so dire se è quella di tanto apro se è quella di un mese particolare o se è quella nuova perché non me l'hanno detto adesso la apriamo uh che carina allora si presenta dentro aspettate ci provo così ok quindi è da aprire questo sigillino e ci sono un sacco di cosine e adesso vediamo allora stavo leggendo da questo che c'era un concorso che scadeva il 27 di gennaio quindi è una box vecchia quindi non c'è spoiler non c'è niente e infatti box di gennaio ah dietro ci sono anche i prodotti ma noi non torniamo a sorpresa non l'ho proprio guardato e quindi era solo indicativa per farmi vedere che prodotti ci sono ma comunque è interessante da vedere allora vediamo un po' uh vedo cose interessanti allora Monviso biscotto salute con fave di cacao e cocco fette biscottate 100% vegetale senza olio di palma interessante questo è interessante fave di cacao e cocco devono essere buone poi andiamo avanti vediamo un sacco di roba continuiamo biscotti della vivella non ho mai visto i biscotti della vivella ottimini al grano saraceno fonte di fibre senza olio di palma confezione da 300 grammi ah dicono che è una novità io i biscotti della vivella sinceramente fantasy del mattino non li avevo mai visti intanto cerchiamo di mettere qui spostiamo le forbici poi vabbè era tutta imballata benissimo altro pluriball vediamo cos'è questo pigmento della giamaica macinato ah scusate è questo qui dice che il pigmento è perfetto con le carni rosse manzaniello ed arricchisce marinature e sanamoglie piccanti sottaceti e molte miscele di spezie quali curry jamaican jerk o ketchup 100% naturale bella la confezione richiudibile sinceramente altra cosa che io non ho mai visto proprio mai visto andiamo avanti andiamo avanti con le cose grandi questo è sempre utile latte della parmalat colazione plus latte parzialmente scremato più 50% di proteine più il 30% di calcio scade scade presto quindi esattamente tra 4 giorni quindi non c'è problema e lo beviamo lo beviamo non c'è problema ecco forse ah perché se era una box di gennaio che scadesse a fine marzo andava bene giusto mi è arrivata adesso va bene comunque è chiusa è chiusa è sigillata non è un latte da frigo e quindi va bene non c'è problema faccio il budino faccio il purè vedrete che finisce subito poi questo cos'è ah ecco sempre del latte perché dice che è una novità della parmalat eccolo qua che può essere parzialmente scremato come il mio oppure scremato e le spiega la fonte di calcio è carino insomma ok vediamo cos'altro c'è tè della Lipton yellow label classico solo a foglie di tè a tè nero tè nero 25 bustine ok 2021 non c'è problema ok questo serve sempre io non bevo tè nero ma non c'è problema c'è brontolo che lo beve volendo quindi andiamo avanti ma quante cose ci sono ancora wow oh questa ci piace Zweg i fruttetti di Oswald è una composta di arance frutta raccolta a mano vegano e senza grutine marmellata di arance allora la confezione è questa scusate perché stavo guardando che ha proprio i pezzi non è una marmellata placida placida ha proprio i pezzi e le scorzette di arancia quindi è interessante questo è davvero interessante come prodotto che oltretutto non conoscevo neanche sì conoscevo le marmellate della Zweg ma fatta così no e poi andiamo e quindi non lo do neanche poi plum cake senza lattosio sicco riso della riso scotti interessanti anche questo senza lattosio io guardo sempre gli zuccheri i zuccheri ce ne hanno ok 6 pezzi senza olio di palma e senza proteine del latte ottimo e poi credo che sia l'ultima cosa che adesso non so che cosa sia ma devo farvelo vedere perché super imballato e non so quanto plurible adesso lo tiriamo fuori un mega vaso di pesche italiane della fattoria dei sapori lavorate dal fresco pesche allo sciroppo sono proprio pesche ecco perché era così pesante è un mega vaso allora quindi stavo guardando il prezzo che dovrebbe essere di 19,90 quindi 20 euro però la prima è scontata di 6 euro con il mio codice che è qui sotto nell'infobox e dentro questa box c'erano 1 2 3 4 5 6 7 8 prodotti quindi mi sembra che sia una c'erano tutti sì esatto tutti e 8 la trovo una box interessante ho visto che ci sono delle box in giro ma questa tutta sui prodotti alimentari oltretutto viene dall'italia vi lascio tutti i link in descrizione con anche il mio codice ovviamente per avere 6 euro in di sconto che quindi 19,6 9,90 9,90 9,90 mi sembra un buon prezzo mi sembra un buon prezzo per almeno provare credo che come tutte le box ma adesso comunque controllo sul sito e vi saprò dire bene ma credo che come tutte le box sia a rinnovo mensile quindi se per caso ne volete provare una due dopodiché dovete disdire l'abbonamento di ricordarvi di disdire l'abbonamento comunque sia questo era tutto il video per la degusta box che ne sentivo parlare ed effettivamente è valida soprattutto per provare prodotti nuovi che magari non si conoscevano interessante e niente e vi ricordo come sempre di lasciarmi un commento soprattutto se avete avuto compagnia per essere stati e anche questa volta per ricevere un premio da me tutti i link lo sconto tutto nel box informazione e vi ricordo di guardare sempre il box informazione perché ci sono tanti colci sconto che potrebbero interessarvi ed è niente a questo punto grazie a De Gustebox ed ci vediamo al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao ciao